Rolo Scampia, battaglia, bassa morti per degrado, rabbia e dolore ai funerali delle tre vittime di Scampia, lutto cittadino a Napoli, le istituzioni al fianco degli sfollati e dei residenti. L'omeliacorata dell'arcivescovo, Don Mimo Battaglia, il quartiere può risorgere. Porto, il nuovo beverello, più servizi ai passeggeri. Napoli, dopo quasi cinque anni di lavori, il molo riapre parzialmente. Spazi dedicati per dare refrigerio ai turisti in attesa sotto il sole. A regime, le banchine sono destinate ad accogliere oltre 4 milioni di persone all'anno. Abusi sulle allieve, preso maestro d'arti marziali, inchiesa a shock della procura di Salerno. È domiciliare un 68enne che avrebbe costretto tre allieve a subire atti sessuali durante gli allenamenti. Le vittime hanno un'età compresa tra gli 8 e i 12 anni. Avellino, svolta di nargi, giunta di soli tecnici. Presentati in consiglio comunale i componenti dell'esecutivo. Ad Avellino inizia ufficialmente il dopo festa. In squadra professionisti e docenti universitari. Fuori gli ex assessori. Duro botta e risposta con l'opposizione. Due siti unesco a Benevento. Combattiamo il degrado. La città celebra il riconoscimento dell'appia nel patrimonio dell'umanità. Ma il sindaco Mastella annuncia una stretta per il decoro. Nella buffer zone vietati buffet e addobbi. Linea dura anche contro il parcheggio selvaggio. Erano questi nostri titoli. Buonasera e ben ritrovati con il TG News. In apertura, lo avete appena sentito, dai titoli Scampia, palloncini al cielo per salutare le tre vittime del crollo nella vela celeste. Le parole del vescovo battaglia. Da questo dolore risorga comunità. Senza muri. Il servizio di Rossella Strianese. Centinaia di palloncini bianchi e azzurri si sono levati dalla piazza Libertà del rione Monterosa verso il cielo di Scampia, seguiti dall'applauso della folla commossa per l'ultimo saluto alle tre vittime del crollo della vela celeste. Roberto Abruzzo, 29 anni, Margherita della Ragione, 35 e Patrizia della Ragione, 53 anni. Nel silenzio assolato le urla di dolore i pugni sulle bare da parte dei familiari che non si rassegnano al tragico epilogo. A loro e alla Scampia che resiste si è rivolto l'arcivescovo Don Mimmo Battaglia che ha parlato di crollo sociale. Vittime di un crollo che va ben oltre le macerie di cemento e ferro, assurgendo a simbolo di un crollo sociale che deve essere arginato, prevenuto, evitato, non solo qui, ma in tutte le periferie della nostra città, del nostro sud, periferie che possono rinascere, che possono diventare simbolo di una risurrezione possibile, come ci insegna proprio la nostra Scampia, che al di là di certe narrazioni parziali e stereotipate, ha sempre saputo rialzarsi e faccia risorgere da queste macerie e da questo dolore una comunità più giusta, in cui sia per sempre abbattuto quel muro invisibile che divide i figli di questa città, che separa le tante Napoli che si sfiorano senza mai incontrarsi. Intanto restano gravi le condizioni delle due bambine di 7 e 4 anni ricoverate in terapia intensiva pediatrica al Santo Bono dopo il crollo, mentre migliorano le altre tre piccole pazienti e prosegue senza sosta l'indagine della Procura che sta acquisendo tutti gli atti, crollo colposo e omicidio colposo, le ipotesi di reato. Nel giorno del lutto cittadino il sindaco Manfredi annuncia che il Comune ha stanziato un milione di euro per il contributo di autonoma sistemazione e nel pomeriggio incontro con il ministro Musumeci per chiedere il sostegno del Governo. È il giorno del dolore, la città di Napoli si stringe intorno ai familiari delle vittime di Scampia, tante le sedie vuote che si notano nella piazza di Rione Monterosa, ma il Comitato ve le chiarisce subito nessuna protesta, troppo il caldo che ha impedito a molte persone di essere presenti. In prima fila il sindaco Gaetano Manfredi, il governatore De Luca, il sottosegretario ai rapporti con il Parlamento Pina Castiello, i deputati Francesco Borrelli e Valeria Valente, l'ex presidente della Camera Roberto Fico e mischiato tra la folla anche il cantante Franco Ricciardi, originario del quartiere di Scampia. Per gli sfollati il Comune ha deliberato un contributo di autonoma sistemazione. Siamo ovviamente vicini alle famiglie, vicini ai feriti che sono ancora in ospedale, però credo che oggi a fianco al cordoglio c'è l'impegno rinnovato di risolvere definitivamente un problema. Io credo che anche l'esperienza che noi abbiamo e che anche la sistemazione alberghiera può essere sostenibile per un periodo limitato, poi è chiaro che ci vuole una sistemazione abitativa in una casa che garantisca alle persone poi di avere una vita normale. Abbiamo stanziato fino a fine anno un milione perché noi abbiamo un appostamento per annualità, poi se serve ovviamente ci sarà una proroga con uno stanziamento successivo. Si varia nel caso di un singolo da 400 euro, nel caso di una famiglia più articolata a 900 euro. Nel pomeriggio Manfredi si è recato a Roma insieme al prefetto Michele Di Bari per incontrare il ministro Musumeci e chiedere al governo sostegno per gestire la situazione degli sfollati. Dramma nel pomeriggio a Napoli. Un uomo di 69 anni è rimasto gravemente ferito a causa dell'esplosione di una bombola di gas ad uso domestico. Il fatto è accaduto in un'abitazione di via Antonio 5. In casa c'era anche la moglie di 66 anni che è rimasta illesa. Per l'uomo è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli. È in codice rosso ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione Napoli in Marianella per le prime indagini e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'abitazione. Gli ha veato le verifiche per chiarire la causa dell'esplosione. Nella zona ci sono stati momenti di forte apprezzione a causa della violenta esplosione che è stata avvertita in tutto il quartiere. Ancora cronaca. Tragico incidente agricolo a Foiano di Valfortore nel Sagno a perdere la vita un 62enne travolto da altro attore in un suo terreno. Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava caricando dei balloni di fieno quando è stato investito ucciso dal mezzo agricolo. inutili purtroppo i soccorsi all'arrivo del medico del 118 sull'accaduto sono ora in corso. Le indagini dei carabinieri. Torniamo a Napoli. Da oggi il nuovo molo beverello alla stazione marittima è aperto ai passeggeri. Lavori durati quasi cinque anni. Per ottobre sarà attivato anche il servizio biglietteria. Dopo l'intervento di restyling durato quasi cinque anni ha riaperto oggi ai turisti il nuovo molo beverello alla stazione marittima di Napoli. La struttura presenta un edificio ampio e moderno via libera anche alla passeggiata. Al momento però l'apertura è solo parziale. L'attivazione dei servizi biglietteria è prevista per l'autunno ma da oggi il termine ha l'aperto le sue porte ai tanti turisti che arrivano al beverello per garantire un riparo dal forte caldo. Importante area di transito. La struttura è destinata ad accogliere gli oltre 4 milioni e mezzo di passeggeri in partenza per le isole del golfo. Napoli infatti anche per quest'estate si conferma tra le mete preferite per le vacanze ma siamo di fronte a un periodo di normalizzazione spiega il presidente regionale ABAC Agostino Ingenito. Napoli dimostra di essere ormai una meta privilegiata di destinazione siamo però di fronte ad un periodo di normalizzazione. Non sono i due anni precedenti post covid con grossi numeri di viaggiatori ma sicuramente la città e il territorio soprattutto le maggiori località costiera amalfitana penisola sorrentina e isole del golfo dimostreranno e garantiranno flussi importanti anche ad agosto. Al momento però non c'è ancora il sold out. Non c'è ancora il sold out perché tecnicamente per questa logica della normalizzazione solitamente sono i viaggiatori stranieri che vengono meno a che vengono compensati con flussi di turismo interno italiano. Una storia di violenza sessuale consumata all'interno di una palestra salernitana è quanto ricostruito dalla procura guidata da Giuseppe Borrelli che ha chiesto ed ottenuto l'arresto di un maestro di arti marziali. L'uomo 68 anni accusato di violenze sessuali e danni di tre bambine di età compresa tra 8 e 12 anni. Le indagini sono state condotte dalla polizia postale che ha passato al setaccio anche il cellulare e del pc dell'istruttore. Tutto è partito dalle denunce dei genitori di due delle tre piccole vittime. I fatti contestati risalgono a luglio dello scorso anno. Le allieve sarebbero state costrette a subire atti sessuali durante gli allenamenti. Nelle prossime ore l'indagato sarà ascoltato dal GIP di Salerno che ha disposto la misura cautelare. Un 19enne di San Giuseppe Vesuviano è morto ieri notte dopo essersi schiantato con il suo scooter a Ottaviano. Poche ore prima il decesso di un 49enne sulla Cilentana per prestare soccorso a un'automobilista in panne. Appello del presidente dell'ACI Salerno più controlli e uomini sulle arterie. Non si ferma la strage sulle strade campane. Nella notte tra domenica e lunedì un ragazzo di 19 anni di San Giuseppe Vesuviano, Orazio, Oriundo, è morto sul colpo in un incidente verificatosi intorno alle 2 in via Cesare Ottaviana Augusto, nel comune di Ottaviano. Per motivi ancora non chiari ha perso il controllo del suo scooter finendo con violenza contro l'isola, sparti traffico, sequestrata, salma e scooter dai carabinieri. Solo poche ore prima un altro decesso sulla statale 18 Cilentana. Nei pressi del bivio di Centola a perdere la vita per prestare soccorso a una donna con la vettura in panne, il 49enne di Futani Giovanni Ambruosi, investito e ucciso da un'auto proprio davanti agli occhi del figlio quindicenne. Quattro i decessi nel Salernitano in meno di 15 giorni, senza contare la tragedia di Mirabella che ha visto vittime quattro giovanissimi irpini. Una carneficina da fermare con urgenza denuncia il presidente della Cisalerno. Noi dobbiamo chiederci se sono sufficienti i mezzi di interdizione elettronica di altra natura o se non sia necessario anche incrementare la presenza fisica della vigilanza sulle strade. Però io ritengo che la possibilità di prevenire è anche legata alla percezione della punizione che è legata a sua volta alla presenza fisica. Credo che gli automobilisti, quando si rendono conto fisicamente della presenza delle forze e dell'ordine, forse assumono un atteggiamento più prudente. 23 milioni di euro per l'assessamento di bilancio del Comune di Napoli, fondi che serviranno a coprire gli aumenti della Tari e ad accompagnare il boom turistico che riguarda la città. La manovra di assestamento di bilancio del Comune di Napoli ha un valore di circa 23 milioni di euro, cifra che l'assessore al bilancio Pierpaolo Baretta ha definito imponente dopo l'approvazione di oggi in Consiglio. Tra le novità più significative quelle relative alla Tari e alla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, oltre che gli interventi per favorire il turismo. 23 milioni, quindi è abbastanza importante e significativa. Con questi soldi innanzitutto non facciamo pagare la Tari ai cittadini napoletani, che era aumentata di circa 4 milioni i costi. Contemporaneamente partecipiamo al finanziamento dell'impianto di stoccaggio del cartone, quindi un impianto nuovo che ha come scopo ridurre i costi di raccolta e di smaltimento. Dopodiché con altre risorse finanziamo sicuramente una serie di iniziative che riguardano le attività turistiche. Il turismo, come sapete, è esploso, c'è bisogno di interventi sia sul lato della cultura sia sull'iniziativa turistica vera e propria. Nessun rincaro per quanto attiene la tassa sui rifiuti, nonostante un aumento del costo del servizio e si potrebbe prevedere una riduzione nei prossimi mesi. Sicuramente non aumenta rispetto allo scorso anno. La riduzione è possibile appena vanno in funzione gli impianti, perché sono quelli che consentono la riduzione del costo vero, che è il costo dello smaltimento. Andiamo ora ad Avellino, ecco la giunta a Nargi, è un esecutivo di tecnici esterni. Sette tecnici, Marianna Mazza vice, in stand by la cultura, ecco la giunta di Laura Nargi. I nomi e espressione del territorio sono quelli di Lucia Forino, dirigente scolastica del Publio Virgilio Marone, Edoardo Volino, già presidente dell'Ordine degli Avvocati, e Francesco Infantino, ingegnere, già direttore del consorzio Cosmari e dirigente di Irpini Ambiente. Come detto, resta in sospeso la casella relativa alla cultura. Donne e uomini scelti dal mondo civile, dalle professioni, università, dal managgimento di impresa, insieme ai consiglieri, quindi insieme alla politica, porteremo gli uffici e la città ad un buon governo. Completano l'esecutivo Leandro Vittorio Savio, esperto senior per fondi PNRR per la ZES Napoli, Mario Calabrese, docente alla Sapienza, Remo Dallalonga, professore alla Bocconi e l'ex vice sindaco di Bacoli, Marianna Eliano. In aula questa mattina c'era anche il primo cittadino flegreo, Giosi della Ragione, che ha preannunciato possibili forme di collaborazione con il capoluogo Irpino. Sapremmo trovare sinergie con Marianna, che è stato un riferimento per la nostra città, sono detto che saprà esserlo anche per Avellino, e perché non creare queste sinergie da questi comuni così intensi della nostra regione, che possono mettere insieme le peculiarità, ognuno per la propria e fare squadra. Ma dall'opposizione Antonio Gengaro già promette battaglia. Le elezioni democraticamente decidono chi deve governare, ma non sono un lavacro, non tolgono i peccati del mondo. Benevento, la città dei due siti Unesco. A disegnare il bozzetto Mimo Palladino, ma Mastella annuncia anche una stretta per garantire il decoro, incontro con la soprintendenza. Un riconoscimento che rappresenta un volano di sviluppo fondamentale per Benevento, la più antica e patrimonio mondiale dell'umanità per l'UNESCO. Il sindaco Clemente Mastella annuncia la strategia, a margine della presentazione della mostra fotografica sulla regina Viarum, allestita nel chiostro di Santa Sofia. Vi farò vedere nei prossimi giorni un bozzetto che ci ha fatto Mimo Palladino, molto bello, molto intrigante, in cui dà l'idea della Benevento città dei due siti UNESCO, che poi l'UNESCO è una forma di articolazione dell'ONU, quindi per essere chiari, e con questo noi siamo 60 e superiamo la Cina con la storia dell'Appia, perché il 59 si è fermata da 59. Necessaria però anche una maggiore attenzione per garantire il decoro dei luoghi. Saremo inflessibili, cioè non ci possono essere macchie a vedere davanti al Duomo che uno tiene là tutto, ancora qua, questo schifo che c'è in tante zone di sedi che sono inopportuni, su questo saremo inflessibili, altrimenti non è possibile. Una strategia che sarà rinforzata anche per il primo patrimonio UNESCO di Benevento, quello del complesso di Santa Sofia, per cui è stata emanata un'ordinanza maggiormente restrittiva. L'ordinanza già c'era prima, per la verità, l'ho specificato oggi proprio, ho specificato ulteriormente che era un po' sono i carrettini o altre cose, soltanto ho parlato con il suo preintendente, quindi nessuno è legittimato a fare cose sconce, altrimenti togliamo tutto di mezzo, anche quelli che arrivano a mettere i fiori, possono essere i fiori non plateali all'inizio della Chiesa, ma tutto il resto assolutamente no, quindi è vietato. Già prima c'era in realtà, però l'ho esplicitata maggiormente, per cui c'è il divieto totale e assoluto a questo punto di vista. Tombini in ghisa portati via a San Gregorio Armeno, a Napoli, ora i commercianti chiedono più vigilanza nella zona dei presepi. Decine di tombini in ghisa portati via in piena notte dalla celebre via dei presepi di San Gregorio Armeno, a Napoli. Il furto è stato ripreso anche dalle telecamere di alcune botteghe. Dalle immagini si nota un uomo che arriva a bordo di una moto app e scende e porta via alle grate i tombini, finiti sicuramente nel mercato del ferrovecchio. Il comune ha provveduto alla messa in sicurezza dei tombini lasciati aperti, ma alla riapertura dei negozi è stata tanta. La sorpresa, amara ovviamente per i commercianti, che ora chiedono anche più controlli nella zona. Persone che hanno l'abilità di fare questo, senza alcun controllo, di notte per esserci delle ronde, le persone che controllino un po' le nostre strade, no? Penso. Ma è una cosa allucinante, perché poi anche San Gregorio Armeno è una strada visitata da tutto il mondo, però devo dire la verità, le istituzioni sono intervenute subito, già stanno lavorando e stanno mettendo a posto la situazione. Però questo secondo me è uno stato di allarme, quindi bisogna stare molto attenti e capire dietro a questa situazione qua cosa c'è. Pericolosissimo, perché poi ho saputo che l'hanno fatto di notte, passava qualcuno con un motorino, c'entrava dentro e non era bello. Poi c'è chi la prende con filosofia o chi punta sui numeri dell'accaduto. 72 è la meraviglia, lo stupore, vedi? E poi i Mariolo quanto fanno? 79. Fa parte della fantasia, comunque, nel male del napoletano. Il giorno dopo l'incendio che ha distrutto le palazzine popolari di Valle, ora si cerca una soluzione per gli sfollati. Il sindaco di Avellino ha promesso un impegno immediato per trovare una soluzione abitativa per le famiglie. Il giorno dopo l'incendio di Rione Valle ci sono due aspetti da tenere in considerazione, quello giudiziario con la procura che indaga per incendio doloso e quello sociale con diverse famiglie rimaste senza casa e attualmente ospitate in alberghi. Questa mattina i vigili del fuoco insieme ai vigili urbani sono tornati a Valle per assistere a una famiglia al recupero dei propri beni. La famiglia ospite di un albergo di Atripalda è disperata perché è in attesa di un nuovo alloggio ed è rimasta senza vestiti e altri effetti personali. Sto aspettando che vengono per magari far salire sopra, prendere un po' di roba per le bambine e magari pochi indumenti. Io ho quattro figli, la più piccola devo compiere il primo agosto un anno. Io voglio che magari devo sloggiare casa qua per sistemarmi in altro appartamento, però richiedo soltanto di aggiornare il fatto della casa del gas, che là nessuno può ancora agevolare il gas, magari per cucinare, se no come facciamo. Intanto la procura di Avellino con la squadra mobile sta cercando di raccogliere gli elementi che fanno pensare a un possibile incendio doloso appiccato volontariamente da qualcuno. Le fiamme si sono propagate in pochissimo tempo ai materassi accumulati e ai rifiuti ammassati sotto i porticati. Da verificare inoltre le immagini di alcune telecamere di video e sorveglianza pubblica e privata che si trovano al ridosso della zona dove si è registrato il ruogo. Il palazzo dunque è stato fatto evacuare ed è stato dichiarato inagibile. Ora si devono analizzare anche i danni all'ambiente. L'ARPAC già da domenica ha installato una centralina per effettuare le analisi. Il Tg termina qui, ora ci sono le previsioni meteo. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito.